ho queste parole grande pazzo sei un male garalta grazie dei 10 vabbè che t'aspettavi fiodi di zucca li porterò lontano da qui ti verrò a prendere questo tanto sta tutto zucu zucu no wala sei un mostro ma come dei piotite zucca impossibile fumare levate dal cazzo a coglione guarda che finta eccoci qua fiuma impossibile tagliare la gola zoom a destra attenzione ma quanti cazzo sono oh gg morti ma escono dalle fogne ma che è vorresti leggere gli ultimi messaggi di capri sono importanti manca un bocchino una sega gel potrebbe essere gli ultimi dei suoi giorni e proprio senza quarelli perfetto oh cazzo no oh merda rudilia lei dov'è la vicino al cavallo la rudilia hanno fatto a tocchi l'hanno fatto secco rudia due corpi qualcosa niente una bella oh ma c'hiamo nove frecce vabbè ma è il momento di entra in scena fuzz stealth gamer ma zi grazie dei sei più triste la morte del cavallo che del comodino morto dalle zombie fanculo a debito allora non voglio correre rischi la vedo oh pagherai per questo chill brother mi sento lego lasso oggi il dio dello stealth colpisce ancora guarda il dio dello stealth guarda il dio dello stealth guarda il dio dello stealth che aggiramento alla fazzone oh fucile a pompa se gode nettuno stealth gamer fiume nooo non è vero è visto male hai visto male brother tranquillo olè dove pensi di andare eccoci qua morta ah mi ha strazzato ah dove sono finiti ho capito gg figlio di buttana ma come cazzo ti permetti il nosabe e il nabo separatevi il nosabe e il nabo mi prendi in giro no andiamo si vabbè ma quanti arrivano è lui lo sgozzatore il soffocatore l'hard sex worker che te viene addosso correndo ma chi è doctor mundo battagli giocava la peppa ma due corpi grazie percorso naturalistico il percorso più bello di tutti i tempi rì grazie dei tre giardini grazie dei tredici bentornati oh merda oh merda ma c'è cicalone e te fa scolare botte oggi una troia mi ha messo nelle storie quelle verdi e mette tutti tipo mezzi nudini si è cassato subito content a gratis gli ho detto guarda ti pagavo mi fa no no nel chill canale telegram certo link eh sì sì è l cresca l mom non è male c'era un fumetto sulla banca ma tanto ho persi ma quale banca poi prima ma è vero savage starlight che bel nome negentropia alla d grazie dei 54 ci siamo cavolo bonk bello per lì in camano è la via del ritorno la via del ritorno la via del ritorno e c'era una via del ritorno che non prenderemo mai beh perché mai ci deve essere una zona in cui è possibile passare tranquillamente ti faccio della giocata di viva la fazza dai non è morto ma veramente non è morto che stronzata lì la facevo tutta bella poi andavo dietro a quello lo saccagnavo e via che dito al culo come si esce di qui ah sposta il carrello così ho capito non voglio restare intrappolato ho un bel meri grazie stavo un po' a tocchi ho capito che c'ha le ruote ma pesa ha spostato con una naturalezza un po' un po' sgrava questa parte deve essere di dar culo a difficoltà massima forse quella di prima di molto di più quella di prima deve essere proprio il tumore secolare un po' un po' un po' un cazzo potrò tutto bene tutto ok king il virus stermina f***a ma che cazzo mi sta a sparare no ma ho solo un colpo di pompa cioè tu mi hai dato un'arma nuova per darmi un colpo di pompa forza ti copro io ok interessante ah bella pushata brother vabbè però sta cosa è realistica nel senso vedi se ti viene 1v1 a cazzotti te sfonna ce sto è infairabile a cazzotti ma tutto il culo dici perché beh è una bambina mica mica perché è una donna vai capito ma vai ma questi non hanno armi ma che fa guardami le spalle ok l'ho presa brother ma che ma che sta facendo ma che è l'aggiramento a lazzano ma questo che fa ah è di cemento non è che c'è in alto qua zitto zitto giustamente questi non possono avere proiettili già non manco l'arma ecco l'uscita qua d'accordo una bella bottia ma questa la scolamo eccoci qua rilassati ti sto salvando la vita ecco ecco fatto ed è proprio lui tu luglio ci ho messo subito in cantina che resta da magna come ti senti uno splendore tieni è vero amort è vero dovresti mangiare non penso mangerò quella carne so che hai fame sei rimasta qui un bel po' che cos'è? è cervo è cervo con contorno di carne umana no no te lo giuro è solo cervo è cervo sei un cazzo di animale un giudizio un po' affrettato visto che voi avete ucciso quante persone? non ci hanno dato scelta e pensi che noi l'abbiamo vero? mentre magna fa ah invece non era cervo anche noi dobbiamo preoccuparci dei nostri con ogni mezzo necessario e quindi ora mi taglierai in tanti piccoli pezzettini preferirei di no dimmi il tuo nome Johnny Greek sono stronzo patetico al contrario sono stato piuttosto onesto con te ora penso sia il tuo turno è l'unico modo per convincere gli altri convincerli di cosa? che puoi cambiare idea hai cuore sei leale e sei speciale manca 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 az toc 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 Tocca di popolà. Via, pronti. Gli ha spezzato, eh? Piccoli pezzettini. Ci vediamo domani, Ellie. Pronti? Gli abbiamo rotto pure la mano delle pi... Eccoci qua! Boom, guarito? Ellie. Come è nuovo. Ellie. Manco Grilin resuscitava così. Ha regalato un base. Via, pronti. Non è che vi posso... C'è qualcosa qua? Non c'è un cazzo. GG. 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 Ma zio, cosa avresti fatto al posto di David? Boh, avrei messo il cazzo tra le sbarre. Dove diavolo sei? È così, per ridere, una piccola gag. Per una goliardica gag. Per una goliardica gag. Che non stiamo in formissima. Mo, siamo come novi. Ma che siete, pazzi? Dentro casa tua c'è la roba ciotta. Eh, rip. Allora, vi faccio vedere perché mi chiamano il fantasma di Nettuno. Voi dite, ma un mano sgamato, è finita? Questa è la più fantasma di me. Dov'è? Bella, bella, bella. Ah, non posso scavalcare. Oh, brother, my derotter, cazzo. Ma dov'è? Corri? È da Roma, questo. Corri. Ma che fa quell'imbecilla lì? Figlio di troia. Oh, ma quanti cazzo sono? Ecco giù! Ecco lui! Oh, cazzo! È là giù! Olè! Lui è là giù! Olè! 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 Hihihihi! So bad! Ah, non è morto. Capito. Questo palesemente in testa, non muore. Oh, guarda quanti corpi. 16 corpi di pistola. E che è Natale! Happy Chris, è massa. Ah, lui non gli fa più male alla panza, ma sta nel... Sta nel... Preso, stronzo! Finiscilo! Che lo fermo! Vai, vai, faccio un altro buco, tanto! Da, perdo! Figlio! Di traia! Lasciami andare di ammazzo! Mmh... Molto bene. Canibale! Wow! Ma che... Tu aspetta qui! Ora... Wow! È stata la dottura! Dimmi, è viva? Che ragazza? Non so di nessuna ragazza! Via, pronti! Cazzo! Ehi, guardami, guardami! Te lo stacco, questo ragazzo di ginocchio. La ragazza! Questo è Yoshi al nuovo stadio, comunque. Fa così uguale. È il nuovo giocattolo di David. Dove? In città! In città! Via quell'incurra e comincia a fare sta roba. Ora me lo indichi sulla mappa. E sarà meglio che sia lo stesso posto che dice il tuo amico. Segnalo. È lì, cazzo! Puoi controllare! Chiedilo a lui! Chieditelo! Te lo dirà! Non sto mettendo! Non sto... Ah, vedi? Gli dà un bel abbraccetto. Vaffanculo, cazzo! Ti ha detto quello che volevi! Non so niente di più! Meri, guardana, c'è t'è scena. Di credo. Non aspetta fessa! Meri, guardana, c'è t'è scena. Vedo un c'è razzto rubbo. Forza! Lassami! Dai! Fasta! Smetti la! Ah! Ti avevo avvertita! Sono infetta! Sono infetta! Davvero! E ora anche tu! Guarda lì! Tirami sulla manica! Guarda lì! Starò al tuo gioco! Cazzo! Cazzo! Come hai detto? Tutto accade per un motivo, vero? Che cazzo è quello? A me si sarebbe trasformata! Non è vero! A me sembra più che vero, cazzo! Vattari giocava! Beccate l'AIDS! Wow, un gartello svizzero! One binan col coltellino? Ma da dove cazzo è saltata? Cosa cazzo ha questa gente? Wow, l'ha già fatto l'ingan! Dove vai, Ellie? È la mia città! È chiusa! È chiusa! Ho bisogno di un'arma! Non ci stanno armi! Dici modi, diverti, fazzo! Ok, ce la posso fare! Un bel medikit! E un coltello! Un bel coltello! L'ha già comprato ieri! Ma una pistoletta? Uno sdrogo, man! Ho sentito un popi popi! Via! Pronti! Un altro medico! Tu non vedi che lo dico! Eh, la madonna! Ma come ti ho beccato? Vai! Chi corre per primo, corre tre volte! Ah, mi ho trollato! Oh, una bottiglia buona! Ma chi è che mi sta guardando? Ah! Eh, mi sa... Oh! Ah! 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 Oh! Sì